Da dopo che si fa il biologico sono arrivate coccinelle, sono arrivati tutti questi tipi di animalini che prima non esisteva a vederli. Proprio ora ce ne sono tantissime. Con il convinzionale ci siamo accorti che ramavi ugualmente tante volte e l'uva non riuscivi a portarla come la volevi. E da lì abbiamo provato a passare al biologico. Noi non ci siamo più lamentati, il sistemico fai prima, perché te sai che cosa dai o tieni. Il biologico te sai che oggi rami, se domani piovi devi riramare. E non ci si mette in testa di ricoltivare la terra, si smetterà di mangiare. E non è il biologico o il sistemico, è che la terra va coltivata. Non si è fatto per il terreno e per il territorio. La terra è terra e gli si deve voler bene.